Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornare, chérie, a Monte Carlo. Questo nostro amore puoi salvare ancora, oh, chérie, con me a Monte Carlo. Quando rivedrai lo stesso mare e la luna in cielo brillare, torna qui da me, tutto aspetta a te, è un eterno sogno, Monte Carlo. Non dimentica questo azzurro mare, oh, chérie, ritorna a Monte Carlo. Dopo l'Inguni, bella d'Annazì, splenderà di luce il Monte Carlo. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu, oh, chérie, ritorna a Monte Carlo. 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 E fa se a Palassina, un giardinetto, un rampi canto e qua cantina è un vino. E a Branda, da Cajero e a Isuleto, peda che nasce, nasce, i mattini. Ma l'ufficio che diceva, non che pensa, a cena, cosa ti chiede tornare? Ma se che penso, a lui mi vedo mai. Vedo i miei monti, a ciasse ad annuncia. Ma se che penso, a chi penso, a chi penso, a chi penso, a chi penso. Rivedo la seia, cena e ilumina Vedo la fuga e sento franzo il mar E allora mi penso ancora di ritornare A possa e osse, do vò a me ma dunà Ele è a passò do tempo, fosse troppo E io figlio lì insisteva Stiamo bene, dove ti verà na papà Pensiamo dopo, o viaggio, o mar, te vejo no convain Oh no, mi sento ancora in gamba Sono stifo e non ne posso proprio ci Sono stanco di sentir, signor caramba E vejo ritornamene un po' in giù Chi te nasce e te parla spagnolo Mi sono nascione e non che mollo Ma se che penso, a lui mi vedo ma Vedo i miei monti, a ciassa da non sia Rivedo la lanterna, a cava, la ziume Rivedo la seia, cena e ilumina Rivedo la fuga, e sento franza e il mar E allora mi penso, a incunder e ritornare Rivedo la fuga, e sento franza e il mar Siamo tornati a Genova Con Giulietta, in più il professor Fiordaliso, visto che la giornata è Particolarmente efficace, no? E riprendiamo da dove abbiamo lasciato Due domeniche fa col tempo in clemente Vi porteremo a vedere ciò che rimane Del nucleo storico più antico Più antico è difficile dirlo Di una parte del nucleo storico Andiamo? Eh sì però Eh buffo sì, è salita E questa? È questa? L'amore per te Io non t'ho saputo amare Non t'ho saputo amare Non t'ho saputo amare Perché volevi da me Ogni parola che ci diciamo È stata detta mille volte Ogni attimo che noi viviamo È stato già vissuto Mille volte Mille volte Sassi Che il mare ha consumato Sono le mie parole D'amore per te Siamo sul ponte di Carignano Sotto di noi Qualcosa come 70 anni fa 80 anni fa Correva ancora L'antica via madre di Dio Uno dei quartieri più antichi E più belli della città Oggi sarebbe Una magnifica camoglie in miniatura Sarebbe un quartiere Che non avrebbe prezzo Perché era comunque Sempre al sole E poi era la parte Più caratteristica Una delle parti Perché dire la più Non è giusto Della nostra città Oggi Questo scempio Fatto Come recita La colonna infame Che spero di trovare Lungo la strada Non mi ricordo L'uvalet E' stato Questo scempio Voluto da Una giunta Scellerata Bisogna dare i nomi Agli autori Democristiano Socialista Che ha Fregandosene Totalmente Di ciò che era La cultura E la storia Della nostra città Ha distrutto Anche la casa Di Niccolò Paganini Come recita Quella scritta Non nascerà mai più Un altro Paganini Allora Noi partiamo Idealmente Da qui Il Tempieto Di Giano E là dietro L'angolo Lì c'è Piazza Sarzano Sulla nostra A destra Si apre Via del Colle Che è Ormai È un giardino E sopra Via del Colle Il passo Delle murette Noi costeggeremo Questa parte Arrivandosi Nelle torri Di Sant'Andrea Dopodiché Giulietta Siamo nelle sue mani E ci farà vedere Ciò che riterrà giusto Però mi sembrava Opportuno Dare l'idea Di ciò Che non abbiamo più Guardate Che delirio Prendiamo questo Lo attacchiamo A picca pietra E certo E vediamo i vertici I vertici Di certe architetture moderne Ci mettiamo poi Il palazzo Della Cassa di Risparmio In Vico Casana E siamo a posto E siamo a posto Non abbiamo Noi Ne altri Franco Tu ho di consenese Ma Faisi l'è giusto Che fassare Di dinesti politici Ma se è Che avevi Il minimo Di buon gusto Se dovevi Fassare In logos Ma fai Con dei criteri Che Seggiano Coerenti Con Questo dimostra Il fatto Che Credo Che siano Tutti Uffici Qua Ma Certo Quindi Manca Il tessuto Vitale Della gente Che va A stare In queste Case E le vive Ecco Cioè La Genova Delle vecchiette Col barattolo Di basilico Perché Erano In un barattolo Di salsa Poi le piantine Di basilico Quando passavi In certe zone Sentivi ancora Che battevano Il lardo Facevano Il battuto Sul Non Chiediamo Che si torino A quei tempi Ma un po' Di gusto Un po' Di rispetto Aderire Ecco Io ricordo Un vecchio parente Di mia suocera Che diceva Quando si va Nei centri storici Bisogna usare Il bisturi Del chirurgo Con delicatezza Eliminare L'eliminabile Ma mantenere Quello di bello Che c'è Che cosa Non si è fatto Si è andati Con i bulldozer Adesso Vi facciamo vedere Il bisturi Del chirurgo Un giorno dopo L'altro Il tempo Se ne va Le strade Sempre uguali Le stesse Di case Un giorno dopo L'altro E tutto E come prima Un passo dopo L'altro La stessa Vita E gli occhi Intorno Cercano Quell'avvenire Che avevano Sognato Ma I sogni Sono ancora Sogni E l'avvenire Ormai Quasi passato Un giorno Dopo L'altro La vita Se ne va Domani Sarà Un giorno Uguali Ieri La nave Ha già Ha lasciato Il porto E dalla riva Sembra Un punto Lontano Qualcuno Anche Questa sera Torna Deluso A casa Piano Piano Un giorno Dopo L'altro La vita Se ne va E la speranza Ormai È un'abitudine Ci troviamo All'imbocco A mare Dell'antico Tratturo Della Coglia Cioè Via del Colle E Sulla nostra Destra Sulla mia In cui vi parlo Sono visibili I resti Delle mura Del Barbarossa Giulietta Però non è il Barbarossa No poveretto Fatte per paura Del Barbarossa Quale però Verrà Lo stesso a Genova Darà grandi concessioni Ai fieschi Questo è molto importante E soprattutto I genovesi Sapendo quello che va Combinato Ad Alessandria Milano Eccetera Di Corsa Fanno fare queste mura Sono carissime Siamo nel 1155 È come recita Le mura Costano care Allora c'è un appello Alla popolazione E un appello Al clero Il quale Dà Tutti gli arredi Sacri Della chiesa Che vengono venduti I nobili Fanno la loro parte Ma la loro parte La fa anche il popolino Noi sappiamo Che sono state tassate Le prostitute Del porto Perché il porto Era già abbastanza avviato Quindi anche loro Pagano Diciamo così La loro tangente A questa opera Che poi A lato pratico Non è servita niente Perché quando è arrivato Barbarossa Poi è passata Da fare per conto suo Cioè Non ha creato problemi Ma da allora Vennero chiamate Le mura del Barbarossa Che giravano Per una parte abbastanza E dall'altra parte Arriveranno Più o meno Verso la zona Della porta Dei Vacca Che subentrano Finisco A quelle che erano Le prime piccole mura Perché la città Si sta allargando Certo Seguendo il sal I scendi Delle colline Ma c'avevano il porto No? Il porto era difeso Dai balestrieri Del mandraccio Che saranno quelli Che faranno scappare Federico II Nipote Del Barbarossa Recita la targa Recita la targa Che queste mura Vennero fabbricate Solo in 55 giorni Anche se ci voler Oltre 10 anni 8 anni Per il completamento Erano lunghe 2400 metri Su questa Antica Porzione Di muro difensivo Parte Via del Colle Una delle 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 vie Nevralgiche Di quell'antico quartiere Che non esiste più La percorriamo Verso le torri Di Sant'Andrea Cioè verso Porta Soprana Anemo? Anemo Anemo Me l'andavo Un toccarugio Ademo A me qui Gardetti E modi Ma scarso Netti Che se te Non puoi Mostare Se la Nai Ma lua Stoa E ci Vote Mi Affigiva E Formai Mu Accomitiva Se la Navi Ma Bagna E Scimacchio Passo A San Pelazzo Da Fugge E Cantai Mu Sotto Vuge Quest' Antica Me Canso Che L'Iadun De Te Mi Ricorda Me Caseta De Quando E Anqu Infigio Che L'Iadun De Te Te Ricordo Mè Ci Cao Che Ascordasse Non Saper Que L'Iadun De De Te Qui Pate E Quattro Strass E A Pace A Po Figgio Mi Da Ieva Mè Fortuna E Ripete Mè Carucci A Mè Casemestre Fuggi E Mestav Tanto Che Fett Poi Un Po Ci Grande Mè Anna Vala Casse A Qui Figgio Suga Vale A Qui Figgio Te Da Mè E Te As Vente Giscan Deporte Suga Vime Bedine E Se Sward Fus Am Mine S Occupai Mou Con Piag G Ai miei tempi quando a porta A serviva con spaghetto E a sei abito un letto Le mettevano a dormire Cos'è su queste balanche Cos'è servano a un vegetto E a se sei la mia schienetta Forse non avrebbe mai c'è C'è l'ia d'un detè Te ricordo la mia casetta De quando erano qui in figio C'è l'ia d'un detè Te ricordo la mia casetta E a scurta se non sape C'è l'ia d'un detè C'è l'ia d'un detè Qui pategne quattro strasse E a face a po' pizze Mi dà ieri fa me fortuna E ripetemi carucci A me case me son fuggi Che me stavano tanto per C'è l'ia d'un detè C'è l'ia d'un detè C'è l'ia d'un detè C'è l'ia d'un detè E' l'ia d'un detè Ma è l'ia d'un detè E' l'ia d'un detè C'è l'ia d'un detè Eh questa discesa Siamo nel cuore della vecchia Genova Eh beh Non vecchia Vecchissima Perché qui si parla di centinaia e centinaia d'anni Fa parte del quartiere del Molo C'è via Madre di Dio e Sarzano e la Colle, perché in Genova si dice Collia. E lei è nato qui? In via Madre di Dio, sono stato portato a otto mesi, io sono nato a Roma, però a otto mesi mi hanno portato in via Madre di Dio. Ecco e qui c'era il vecchio quartiere, quello che è stato completamente distrutto? Tutto qui, andava oltre, andava per 500 metri, era tutta una strada diritta. Vedete quella casa lì e l'oratorio, noi altri bambini eravamo dei chirichetti, andavamo a servire messa per 20 centesimi o 30 centesimi la domenica mattina. Non si può vedere l'entrata, però l'unica cosa che è rimasta è quella lì. A circa 100 metri eravamo, lì si arrivava proprio oltre lo stretto dei Servi, noi altri conoscevamo il luogo, il posto, no? E lì nelle vicinanze c'era la casa di Paganini. Ah, era laggiù la casa di Paganini? Oltre quel verde lì. Era quasi di fronte a salita della montagnola, dei Servi, perché c'era salita montagnola della marina, la parte bassa, e salita montagnola dei Servi era la parte alta. Quando hanno deciso di far sgomberare tutto il quartiere di Via Madre di Dio, noi altri sapevamo che c'era la casa di Paganini. E allora è stata presidiata per parecchie settimane. In quanti eravate a presidiare questa casa? C'eravamo circa un centinaio di persone, perché noi altri capivamo che come hanno buttato giù tutto il quartiere, e andava giù anche la casa di Paganini. Allora, si ci dava il turno per non fare entrare queste ruspe qua. Tant'è vero che sono arrivate una mattina le ruspe, la gente si è buttata per terra, dovevano passare sopra il corpo di questa gente qua. E per delle settimane hanno dovuto rinunciare. Una sera ci hanno mandato via tutti, al mattino siamo andati su, la casa di Paganini è sparita. Rasa al suolo, con le ruspe, il signor Pongiglione, l'architetto Pongiglione, ha raso al suolo tutto. E questo quanti anni fa? È circa vent'anni fa. E tutto questo è stato fatto per far nascere poi... Per fare il quartiere, qui il quartiere dei Liguri, ma se lei vede non c'è una persona, non c'è. Sono tutti uffici, poi sono anche, sono tutti anche fuori mano, perché non passa una persona, anche qui, questo qui che hanno fatto, non passa una persona. E' stata una politica, una politica sbagliata per conto mio, perché si poteva fare di meglio. E dove sono andati a finire gli abitanti delle case di questo quartiere? Purtroppo ci sono, li hanno spantegati in tutta Genova. Tutta Genova, tutta Genova, ma proprio lontano da Genova, nei quartieri, sempre nei quartieri fuori mano. A Quezzi, a Rivarolo, a San Pierdarena, a Molasana. Da tutte le parti l'hanno andata e noi altri non ci si vede più. Solamente sappiamo, ogni tanto, è morto il tale, è morto il tale, perché... Facciamo una lieve digressione da ciò che era la destinazione principale, perché un cortese signore che abita qui sopra, in questi palazzi che sono il residuo di ciò che era l'antico quartiere di Coglia, ci ha raccontato che scendendo verso salita della fava greca, che è questa, fra un centinaio di metri troviamo dove era la casa di Paganini, la lapide che ricorda questo scempio. Poi torneremo qui e arriveremo a Sant'Andrea. Direi a Nemo, che a nostra, Nemo, voleva dire qualcosa, professore? Allora c'era un arco che riprendeva, vedi che... Sì, sì, quello lì era un arco. Come mi piace a Coglia, quando che li show su, e case che va al sciù, tutti a te i terassi come una montagnetta, ma che udigan quei strassi che che sbatte i barquini, d'essere tutte contente su t'ausse e da mattina. Gli ortigioni sciteiti, panvilette e giardini, come se va a distanti, da oscuro di Carugin. Ghe, na page da monti, fuinte quelli recanti, spigli deteiti, grunde, ringhe e terassette, scalette che s'ascondano tra meso i fumaioi, agaggia a cuo canaio, fra i tomate e i fagioli, e in tacacchetta finna, due dia di insalatino. Teghello, fuggio, arreusa, a vigno enxerangio, l'erbo de peie, a seja e o teito co pa in prou. E che fina i pulini, che come sempre si usa, antanto ugo, chupin, che pan co a corna musa. Da un barcone di suio, s'avanzo su beneito, col giornale e a pipetta, e ho pa in suggeritù, a scuso in tacacchetta. Ma cosa ancora strana, non ve l'ho ancora mostrata, in una nave incendita, che non si può mesciare. Anche se mette e veie, e bonga e scuscia il vento, l'acqua non può arrangare. Con questa nostra piccola deviazione siamo praticamente tornati vicino al Tempio di Giano per inquadrarvi questa testimonianza incredibile. Però sopra, vedo nel 1990, è stata apposta a Giulietta, lei che è una letterata, una frase del Petrarca. Venga qui che c'è... Allora, io la leggo, lei poi dice, eh? Sì. La frase dice Arrivando a Genova vedrai dunque una città imperiosa, coronata da aspre montagne, superba per uomini e per mura, signora del mare. Francesco Petrarca, 1358. Perché dice così? Perché c'è una storia abbastanza... storia vera. Per fortuna noi di Petrarca abbiamo un sacco di materiale. Allora, Petrarca ha un amico che gli dice, gli scrive, perché non ce ne andiamo a fare un pellegrinaggio a Gerusalemme? Come allora era di moda, oltre Santiago c'era anche Gerusalemme. E lui risponde, mai più, io non ci vengo perché devo andare per mare. E io ho paura, perché quando ero piccolo, e qui c'è tutta una storia di Petrarca a Genova, bambino, e sono incappato con i miei genitori che andavano ad Avignone, perché il papà di Petrarca era un bravissimo notaio, cacciato da Firenze come Dante, che si è trovato a venire a Genova con la moglie e i figli per andare a cercare lavoro, brutalmente lavoro, ad Avignone, essendo centro papale, allora c'era possibilità di lavorare. E questo ragazzino dice che ha conosciuto Dante a Genova. Allora, Petrarca va con il papà e la famiglia e incappano per Marsiglia a un fortunale molto brutto. C'è il Golfo del Leone lì vicino, no? Quindi si spaventa moltissimo e giura che lui non andrà mai più per mare. Quindi, molti anni dopo, l'amico gli dice vieni con me e lui gli dice no. però ti scriverò una guida e faccia conto che ha scritto come come potremmo dire, le guide del Touring Club. Sì. Parti da Genova, intanto descrive San Lorenzo e tutto. Ma la cosa bella è che lui inizia così. Quando arriverai a Genova troverai una città superba per uomini e per i suoi edifici. Ecco il termine superba che Genova orgogliosamente, che non vuol dire che si dà delle arie, ma vuol dire che merita per la sua... Perché le sue... Guardi bene, dice per le mura e per gli uomini. Ma cosa vede Petrarca, piccolo a Genova? I primi grattacieli dell'antichità, in quanto le case erano altissime. La mancanza di spazio fa sì che le case siano strette e alte. È un bambino che viene da Firenze, dove le case erano tutte al massimo di due piani. Vedete queste costruzioni? Dubbiamente l'ha colpito. In più lei mi raccontò un po' di tempo fa che ha scoperto il numero incredibile di torri che c'erano in città. A Genova c'erano dalle 70 agli 80 torri. Era un'altra a San Gimignano. Torri che sono state o fatte buttare giù dalla Repubblica di Genova, perché a un certo punto erano diventate pericolose. Non nel senso che venivano giù, ma perché tra una torre e l'altra se i vicini di casa litigavano poi mettevano dei legni tra una torre e l'altra e si pestavano lì sopra. Era pericoloso. Secondo, perché sono state assorbite dalle case. Dalle case, quindi inglobate. Inglobate. E poi, però lo sappiamo, perché nei testamenti esce fuori Adriano V, dice, casa con torre. però attenzione, c'erano due tipi di torri. C'erano le prime torri che erano 4x4, piccole, quindi proprio da difesa. Poi pian pianino diventerà più grande e diventerà una torre di abitazione come quella di Via Ravecca. Brava. Allora, siamo qui, tra l'altro, oltre che per la targa del Petrarca, anche per leggervi, per farvi rendere conto di questa colonna infame come l'hanno chiamata coloro che l'hanno composta. Dintanto comincia con, voglio dire, un imprinting. Male non fare, paura non avere. A vergogna dei viventi e a monito dei venturi, come usava i tempi della gleriosa Repubblica di Genova, dedichiamo questa colonna infame all'avidità degli speculatori e alle colpevoli debolezze dei reggitori della nostra città. Con vandaliche distruzioni hanno cancellato tesori di arte e di storia, eliminato interi gloriosi quartieri del centro storico, marinaro ed artigiano, deturpando per sempre la fisionomia della città fino all'inaudito gesto di demolire la casa natale di Niccolò Paganini. Essi hanno così disperso la popolazione di questi quartieri con l'infame risultato di sradicare le fiere tradizioni che fecero Genova rispettata e potente. I genovesi dei quartieri della Marina, Via Madre di Dio, Via del Colle, Portoria, Sarzano e Raveca. E in fondo non ci sarà mai più un secondo Paganini. Volevamo rendervi partecipi di questa cosa che come se usa di non si scordiamo il resto del Belin, chiascena. Teniamo tutti in memoria. Quindi è importante conoscere la storia per poter capire dove siamo e presumibilmente immaginarci dove andremo. Sbaglio? Poco distante. Allora, torniamo su e arriviamo alle torri. Grazie. per campare non basta uscire ma anche oggi sia mia che qualcosa che a noi dici che ricordo d'africiù Pupami su un'altra cornice da si deve adorare madame un pensiero a valontà e pensa, pensa, pensa a quella lunga cresa o quelle tue mani in testa che veniva da l'uomo e pensa, pensa, pensa quando insieme a quelle spalle che è montata che si dà poi che corsa fino a un mar ma che posto quello là dove che da vergognasse a ben figlio senza po'è lì la cosa da non face divan quelli con asun c'è dei segni che non hanno c'è e pensa, pensa, pensa a quella lunga cresa e ho poi quei mani in testa che tu veniva da l'uomo e pensa, pensa, pensa quando insieme a quelle spalle e non c'è e pensa, pensa, pensa e pensa, pensa quando insieme a quelle spalle che montava pesca poi che corsa fino a un mar ci troviamo all'esterno delle torri di Sant'Andrea di Porta Soprana in quello che ancora oggi si chiama Vico Diritto di Ponticello immaginiamoci che leggermente 100 metri più in giù una volta c'era un antico rigagnolo con un ponticello e questo era il Vico Dritto di Ponticello allora, la prima cosa che mi viene da dire è che per molti anni, per molti secoli da questa parte da praticamente rispetto a quel muro a mare della torre a mare partiva una lunga schiera di palazzi che arrivava sino all'inizio di Vico Diritto Ponticello che è stata demolita quando hanno fatto questa parte nuova però su queste torri ci sono delle cose mirabolanti da raccontare intanto queste torri qua non sono altro che la porta d'ingresso del centro storico e il suo posto è porta dei Vacca quindi verso, alla fine di via del campo e poi c'era un'altra porta che era Porta Doria che è stata demolita quando è stato demolito il quartiere sciaguratamente perché poteva essere inserita nelle case nella porta Oria che poi ha dato il nome a quanto pare alla famiglia Doria la porta d'oro sarebano che era in picca pietra in picca pietra questa è, altro che le continuazioni delle mura del Barbarossa ed era molto ben difesa abbiamo visto tracce di posizionamento di cannoni ben conservata come del resto porta dei Vacca che però è abitata in parte ed è la gloria diciamo della città e attraverso questa porta si entrava nel cuore pulsante della città più povero qua come succede sempre più ricco verso San Bernardo e verso via Giustiniani dove c'erano i palazzi dei Rolli abitavano i palazzi dei Rolli è molto interessante viene chiamata anche porta di Sant'Andrea perché qua c'era un convento credo femminile di monache dedicato a Sant'Andrea che era più in là è stato demolito per costruire questi palazzi e di questo convento tenete conto che alla fine del 1700 con le leggi napoleoniche tutti i conventi vengono distrutti non solo ma i beni vengono incamerati dello Stato siccome questo convento che non era male tutto sommato siccome questo convento era bello grande lei ha delle fotografie su questo convento venne trasformato in carcere ed è stato carcere per parecchi anni carcere di Sant'Andrea carcere di Sant'Andrea che cosa si è salvato di questo monastero a parte delle fotografie che io ho visto tanti anni fa del resto è successo anche per tanti altri monasteri qui intorno questo bellissimo chiostro che era il chiostro delle monache che è stato smontato e ricostruito qua dove c'era spazio in un triangolino e si è conservato di rara bellezza tra parentesi in stile gotico dietro quella che viene chiamata la casa di Colombo perché questa zona era la zona soprattutto verso l'attuale via 20 settembre dei tintori tant'è vero che dalla Fontana Buona e la famiglia dei Colombo veniva dalla Fontana Buona molti contadini esasperati esausi dallo sfruttamento dei signori eccetera richiamati più o meno chiaramente dalla Repubblica di Genova vengono e formano un quartiere sotto la chiesa di Santo Stefano e lì c'era il quartiere dei tintori perché le tinture puzzavano e quindi bisognava tenerle un po' distanti Genova aveva delle grosse tessiture tant'è vero che va sempre alla ricerca dell'allume che era il prodotto che serviva a fissare i colori nelle stoffe quindi fu una grande concorrente dei paesi nordici delle Fiandre che facevano tessuti anche loro e si deve ai giustiniani poi questo Certo, voleva aggiungere qualcosa? Sì, come dice Giuliano domanda quella porta che è stata ricostruita sopra la stazione di Brigno Porta Pila Dov'era? Visto che parliamo di porte Era praticamente all'inizio di via 20 settembre collocata in quel punto lì e di rimpetto a quella porta Pila che in mezzo di fotografia magari ne inseriamo qualche d'una c'era il famoso Ponte Pila che attraversava il Bisagno e andava, hai capito? a Levante quella lì era la porta che se ti vuoi entrare da quella parte lì poi è chiaramente posteriore a questa questa era precedente qui c'erano ancora terreni incolti poi pian piano con l'espansione della città ne viene collocato un'altra là però siamo qui davanti alla porta di Sant'Andrea come dicono tanti anni fa e ho alcune foto che ne parano spero di trovarle c'era una catena appesa al centro enorme, grossa che era, come dice Giulietta la catena del porto di Pisa del porto di Pisa che praticamente impediva l'accesso alle galè degli avversari ne ha altri che hanno fatto un cusci e siamo portati via anche la catena non solo ma la Repubblica di Genova equamente distribui pezzi di queste catene e le ha distribuite anche per tutta la riviera di Levante a Moneglia ci sono ancora perché durante il fascismo fu chiesto che le restituissero a Pisa tutti le restituirono comprese queste Moneglia disse no e ce le ha ancora adesso sono nel cimitero monumentale di Pisa quelle catene lì ho visto che non è troppo anche perché Giulietta a Moneglia era nato uno dei comandanti di quella flotta che ora non mi ricordo come si chiama però perché Genova non abbandonava i paesi satelliti in bene e in male quindi si c'era da fare delle guerre chiedeva uomini e barche al Chiavari, Lavagna, Sestri Levanti tutti è andato e tutti hanno avuto loro un pezzettino di catena Genova si è tenuto un po' più grosso ovviamente d'altronde allora siamo in uno dei punti nevralgici di questa città meravigliosa come abbiamo visto saccheggiata da speculatori folli adesso attraverseremo il piano di Sant'Andrea inquadreremo la casa la torre dei mattoni che è questa qua che è quella lì e poi e poi vediamo un po' da che parte andiamo cosa ci permette di fare il tempo e... quando il mio amore tornerà da me nel cielo una stella splenderà s'è spenta da quando il mio sogno è svanito da quando il mio amor fuggì da me quando il mio amore tornerà da me nel mare una perla nascerà sono tutte le lacrime che ha pianto la stella nel veder solo è triste il mio cuor quando il mio amore tornerà da me nell'aria un violino suonerà la musica dolce scenderà nel mio cuore ed il tempo si fermerà solo quando il mio amore tornerà da me da me da me da me da me dal piano di Sant'Andrea siamo scesi attraverso salita del prione per noi discesa e siamo arrivati in quella che si chiama piazza delle erbe piazzetta sarebbe più giusto se continuiamo incontriamo Caneto se saliamo incontriamo il vico di Mezzagalera che ci porta direttamente dietro la chiesa di San Donato e salendo da quest'altra parte praticamente arriviamo in via San Lorenzo anche questo è un centro nevralgico Giulietta mi sa che bordello fa oh femmelo passà altronde piazza delle erbe sicuramente era la piazza del mercato di qua non riusciamo quindi qui i contadini portavano i loro prodotti da vendere è sempre stato un angolino simpatico e tranquillo di Genova questo davvero piacevole tra l'altro anche dal punto di vista economico davvero quotato perché perché chi si vende è saccate a numeri buon come ti vedete è un posto estremamente tranquillo guardate che magnifica terrazza c'è là che si apre su questa piazza frequentatissima da studenti da gioventù da quando è stato restaurato è messo un po' a posto è diventata veramente un centro piacevole da frequentare dove intenderebbe andare Giulietta al tempo c'è un po' tiranno cosa vogliamo vedere possiamo fare via cannetto lungo e troviamo la torre dei Maruffi va bene allora andiamo da questa parte sì mi fermò per le scale della prefettura la pianta dell'antica Genova affrescata sulla parete era Genova o Caffa o Famagosta più volte tornai alla leggenda in vano mi cercavo pure in embrione quella via Giulia che compare nei ricordi dei nonni si stendevano orti dove si spampano a Genova Nuova bisognò umiliare un monte per dare il passo a via a Sarotti superstite fra tanta prole che gli soppiantava intorno la città coetanea San Lorenzo restò l'unico segno che l'occhio riconosceva e mi figurai San Lorenzo in mezzo a una Genova fosca e superba come lui dalle strade anguste abbarbicata a poca sponda che due riviere turbolente le scavano ai lati protesa alle vie del mare la Genova di cui rimane vestigio qualche lapide incisa qualche portale verdese intagliata prima di cui allora siamo abbiamo fatto un'altra digressione siamo contigui al piano di Sant'Andrea e siamo in piazza Matteotti davanti al nostro famoso palazzo palazzo, il palazzo ducale che ha ospitato innumerevoli mostri. Poi noi faremo i carugi, però andando giù per via San Lorenzo incontreremo la famosa piazza di San Lorenzo con il Duomo e se ci spostassimo leggermente lo faremo, vi facciamo vedere la torre del ducale, ma soprattutto qui c'è l'abitazione di mio zio, che è quella là, perché mio zio, lo sanno tutti, è il cardinale Bagnasco, sta là di casa, ogni tanto lo fa che troviamo e dice come l'è insomma che dico, in modo come l'altro. È un tuo zio per gli anni di coscia? No, mio zio ha acquisito, ma è una persona fantastica ed è stato il presidente della conferenza episcopale italiana, un uomo che conta nella Chiesa. Come dicono sempre, se vuoi fare il Papa, passa da Genova, dico bene? Che abbiamo una bella tradizione. Che abbiamo una bella tradizione. Va bene, era tanto per scherzare un po' e per farvi vedere questa piazza magnifica che ha ospitato in passato. Molto spesso animata da mercatini, ce ne sono di bellissimi sempre qua. È un modo per radunare la gente, prima c'erano le macchine che andavano e tornavano, era un problema, adesso invece è un luogo di raccolta. Quando ero ragazzo passavano i bus addirittura e andavano a De Ferrari passando da lì dietro, era un delirio passare in questa piazza, anche i tramvai passavano. Ora invece per fortuna è consentito. È passato il messaggio a Torre del Ducale e poi scendiamo in Caneto di nuovo. La parte più antica del Palazzo Ducale è la parte medievale, costruita da Alberto Fieschi che aveva acquistato un pezzo di terreno da una doria. Poi si è reso conto che era troppo vicino all'albergo dei Doria, giù in San Matteo. Allora non ci è mai stato, non ci ha mai abitato. L'ha affittata al comune come sede del comune. Poi col passare degli anni il comune l'ha acquistato e ha cominciato ad allargare il palazzo. Quindi questa parte diventerà poi le carceri di Genova. È lì che è stato, che si è suicidato o è stato suicidato Jacopo Ruffini, uno diciamo degli uomini di Mazzini. La torre in cima faceva parte del complesso medievale della casa. Corrono i fanciulli e gridano con gridi di felicità. Già a Frottes avventurano i viaggiatori alla città tonante che stende le sue piazze e le sue vie. La grande luce mediterranea si è fusa in pietra di cenere. Dei vichi antichi profondi, fragori di vita, gioia intensa e fugace, velario d'oro di felicità. E il cielo, ove il sole ricchissimo, lasciò le sue spoglie preziose. E la città comprende e s'accende e la fiamma titilla e assorbe i resti magnificenti del sole e intesse un sudario d'oblio divino per gli uomini stanchi. perdute nel crepuscolo tonante, ombre di viaggiatori vanno per la superba, terribili e grotteschi come i ciechi. Siamo tornati in Canneto e la Giulietta ci segnala una costruzione imponente. Si tratta della torre dei Fieschi Maruffo. I Fieschi avevano qua parecchie case, un po' sparse lungo Canneto. E in questa è una delle poche intatte rimaste. Un restauro abbastanza accurato direi, no? Su quello che si è potuto ricavare, da quello che c'era. C'era un portico che è stato chiuso. Genova era una città di portici, se si osserva bene. E questi Maruffo erano originari di La Spezia, ma avevano molti beni a Sestri Levante. Poi si sono spostati a Genova, ovviamente coinvolti nei traffici della famiglia Fieschi. Ma erano così, Giulietta, visto che lei ne parla con grande, forse un po' anche per il nostro campanellismo che veniamo dalla Pagna. Però erano così importanti in città. Qui sono importantissimi. Se lei pensa che in uno di questi palazzi, esattamente Palazzo De Franchi, che è più giù, ha sostato Santa Caterina da Siena. Ora noi sappiamo che Santa Caterina, in letto di morte, venne visitata da Innocenzo IV. Il primo Papa Fieschi. Esatto. Quindi si muove da Roma e va da Santa Caterina. Nulla ci impedisce di pensare che quando lei è venuta a Genova sia stata ospitata in qualche casa Fieschi. Quindi il potere della famiglia era immenso tanto più che aveva soprattutto dei prelati. Lasciamo stare i papi, ma aveva un fitto numero di vescovi e di cardinali. Quindi arriva qua Santa Caterina e chi la può ospitare? Senz'altro loro. Non i Doria che erano uomini d'arne. Sì, ma poi era tutto un altro discorso. Quindi non mi meraviglio che loro, che non avevano un albergo ristretto come quello dei Doria. Albergo significa un clan. Un clan, sì. Non è un albergo come lo intendiamo noi adesso. Che in genere era un palazzo con tanti altri palazzi a fianco. Pensi alla zona delle vigne, il Grillo, il Doria qua con San Matteo. Contavo oggi di vedere il Cataneo della Volta con Sant'Orpete, ma ci torneremo. Invece i Fieschi erano un po' sparsi in giro. Però qui, in questa zona, erano abbastanza diffuse le loro case. E in Marufo ci dovessero essere anche dei penelli. Un'altra famiglia sempre aggregata. Allora, siccome come direbbe Pucci, buonanima dei Trilli, recciocca in San Lorenzo mesogiorno, direi di portarci un attimo sulla piazza di San Lorenzo e chiudere qui questa nostra giornata. Poi, se la nostra grande esperta di storia e di letteratura ci farà ancora da spari in partner, col professor Fiordaliso, esperto di restauri, con adetode dritte che... è vero. Torneremo ancora e parleremo di questa grande città immortale. Il centro storico di Genova resterà tale ancora per mille anni a venire almeno. È la verità. Incontrovertibile. La Miss San Lorenzo. Qui forse potrei vivere, potrei forse anche scrivere, potrei perfino dire qui è gentile e morire. Genova, mia città fina, Ardesia e viaia marina, mare e ragazze chiare con fresche colane di vetro, ragazze voltate indietro col fiasco sul portone prima di rincasare. Ah, perdere anche il nome di Roma, enfasi e orina. Qui forse potrei scrivere, potrei forse anche vivere. Siamo in piazza San Lorenzo e per... giusto perché Giulietta ci ha richiamato alla mente il palazzo che è alle spalle di Marco in questo momento. Giulietta, pare che... Pare, no. Un palazzo che ovviamente è precedente a questo sia nato Papa Innocenzo IV. Quindi vuol dire che i Fieschi avevano una palazzata qua e questo era dei ravaschieri. Però questi palazzi sono stati ristretti nel 1800 quando è stata aperta via San Lorenzo. Quindi a questi palazzi praticamente è stata affettata. Vedi che se volevano fare dei restauri o recupero della roba la facevano? E come Dio comanda. Si sono portati via una stanza, penso, a occhio. E comunque hanno poi rifatto come era prima. Quindi volendo, quando c'è buona volontà e buon senso, le cose si fanno. Allora il palazzo di cui Giulietta ha parlato, che adesso Marco vi darà un'immagine, l'abbiamo già spiegato, è diventato il palazzo delle arti e delle corporazioni. E tutte le formelle che sono sotto il piano nobile rappresentano ognuna di esse una corporazione genovese. Sono tutte diverse una dall'altra. Va bene, allora vi lasciamo con le immagini e chiudiamo questa nostra bella mattinata genovese. Specialmente il tempo lo è stato come Clemente, veramente. Eh, segno un po' di tempo buono. Eh, certo, eh. Eh, tolì. Eh, già vedi, niente, siamo, siamo. Eh, vabbè, mi cos'è su, mi vive lì, su, desena parla di sì. Eh, ma parliamo sempre. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Che ben sicuri mai non siamo, che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che infonde infonde come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa un mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Oh, Genova, per noi, che stiamo in fondo alla campagna. E abbiamo il sole in piazza rarie volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, nei no, nei, no, nei, no, nei. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, mentre guardiamo Genova. Ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaccio, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, foschia pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, cosa tengono? Tengono lini e vecchie lavande. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna e i gamberoni rossi sono un sogno. E il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. 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 Genova.